e ciao a tutti ragazzi io sono il motociclista solitario e questo è motostorie e benvenuti amici appassionati di moto oggi vi porterò indietro nel tempo per raccontarvi la straordinaria storia di Carl Clancy l'uomo che ha compiuto il primo giro del mondo in moto partiamo raccontarvi chi era Carl Clancy Carl Clancy nato nel New Hampshire l'8 agosto 1890 a 18 anni dopo aver lasciato il college si trasferì a New York dove trovò lavoro nel settore pubblicitario ben presto stanco di quel lavoro trovò il sistema di convincere la Anderson Motorcycle Company di Detroit a fornirgli due moto nuove una per lui e una per il suo amico Walter Randall Story per poter fare il giro del mondo in moto le spese di viaggio le avrebbero coperto scrivendo articoli sulle riviste più importanti di tutto il mondo ovvero ragazzi erano degli influencer dall'epoca quindi nell'ottobre 1912 Carl e Walter partirono da New York con una nave in direzione Dublino dove la Anderson gli procurò le moto e tutto necessario per il viaggio le moto erano quattro cilindri con 7 cavalli su strada potevano raggiungere 100 chilometri orari il prezzo dell'epoca era di 325 dollari circa due milioni e mezzo di oggi un prezzo davvero enorme ragazzi oltre al moto i due viaggiatori portarono un set di chiavi kit di pronto soccorso una macchina da scrivere una tenda in tessuto e per motivi di sicurezza Clancy teneva nascosta una revolver subito dopo la partenza la moto di Story ebbe un brutto incidente fu infatti tamponata da un trama a due piani questo inizialmente non fermò i due viaggiatori che proseguirono con una sola moto ma dopo essere passati dal Belgio e Olanda ed essere arrivati a Parigi pesero la decisione che era troppo difficoltoso viaggiare in due con una sola moto e quindi Story abbandonò rimpresa tornando negli Stati Uniti quindi Carl Clancy proseguì il suo giro del mondo in solitaria scese quindi dalla Francia e la Spagna dove le strade erano messe abbastanza bene sicuramente non sono da considerare come le strade moderne molte erano ancora in terra battuta quindi il viaggio andò avanti di buon ritmo fino in Spagna dopodiché Clancy passò per il Nord Africa dove iniziò la vera avventura passò per l'Algeria, la Tunisia, il Sahara e l'Egitto poi via mare raggiunge lo Sri Lanka in Asia in Asia visitò oltre lo Sri Lanka l'India ma per bassa reperibilità di carburante decide di spostarsi verso la Malesia prendendo una nave visitata questa sempre via mare si diresse verso il Giappone da Giappone preso un'altra nave per raggiungere San Francisco dove iniziò il suo cost to cost per raggiungere New York per la fine della sua impresa si unì a lui un suo amico Robert Allen anche lui a bordo di una moto Henderson i due dopo parecchie difficoltà pensate che all'epoca non esisteva ancora la famosa route 66 e le strade erano davvero pessime Carl Clancy concluse il suo viaggio dopo ben 11 mesi precisamente il 28 agosto 1913 quando dopo aver percorso 29 mila chilometri rientrò trionfante a New York questa ragazzi è la storia del primo viaggiatore che ha compiuto il giro del mondo in moto Carl Clancy che è stato un pioniere del viaggio in moto io spero che questa storia la prima storia di questo podcast vi sia piaciuta spolliciate mettete un bel mi piace e niente ci vediamo per altri ragazzi moto storie ciao ciao